Ok ragazzi, io affronto questa parte della battaglia da 5 volte Cioè, questa è la quinta che la reinizio Se i commenti non saranno speciali, diciamo, belli È perché l'ho fatto già 5 volte Cioè, avevo già detto tutte le cose 5 volte per quello Cioè, adesso vedrete, questo combattimento all'inizio è nulla di che Cioè, questa parte con questi due idioti, il 5 code e il 6 code È facile, nulla di che, cioè Ma quando arrivano il 7 e il 4 code, inizio a piangere E di molto Aia Dai Killer B, preparati Ah, aiuto Ok, il 5 code è quasi andato Ok Ok, il 5 code è andato Vai Killer B L'ho detto, il 5 code e il 6 code sono scarsi, diciamo Fra poco Mi farò capire cosa vuol dire un po' bestemmiare Perché è molto probabile che ci sarà una Una sesta volta Una settima anche Non credo una settima, però Il 6 code è scarsissimo Ha degli attacchi lenti proprio Ok Colpito e affondato Non ancora Affondato Ok Arriva il più bastardo Tobi No Non è Non è bastardissimo Vi farò vedere come le prende facilmente poi Ti piace Tobi il Rasengan super ultra potenziato Della madonna? Beh, capi un altro Rasengan Oddio Ok Ok Mamma mia Perfetto Ok 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 ragazzi Ci avviciniamo Alla parte difficile Dell'intero scontro Devo riuscire ancora un po' Ad attaccare Madara Oddio Oddio Se è già È già andato di là Ok Occupiamoci subito Del 4 code Aia Tra poco Vedrete di che vi parlo Quando vi dico che mi sono incazzato un bel po' Cioè praticamente questi due Sono gli spammatori delle mosse E quello che ho potuto notare è che Il 7 coda È troppo forte E mi serve solo B per poterlo sconfiggere Capito? Cioè Infatti inizierò già a spammare gli attacchi di B Su Ora su 7 code Ok 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 Il 4 code è andato fuori gioco ragazzi Mamma mia Aia Oddio 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 ok sconfiggiamo del tutto il 4 code ok 4 code andato ok adesso io vi spiego una piccola tattica che ho provato e mi sembra l'unica che serve voi tenete premuto lt scusate rt o playstation non me lo ricordo scusate il tasto comunque dorsale diciamo no aspettate finché non avete killer b disponibile e vi proteggete perché sennò perdete ve lo dico cioè non sto scherzando non sto non sto affatto scherzando ok oppure correte così in giro ma rischiate di essere colpiti a caso come adesso venivo colpito per forza oh oh si avvicina so che è una tattica così un po' di merda ma oh non c'è niente da fare oh oh dai killer killer mi serve tutta la tua forza ok perfetto mi dispiace combatter così il penultimo boss finale ma è impossibile da fare normalmente per quello vedete di quanto non mi ha preso cioè se non correte troppo rischiate di perdere cioè eh vi prende anche qui quindi ragazzi non so che dirvi questo è il più forte di tutti forse più forte dell'otto code del nove code oddio dai killer ok ecco quando attacca con questo fa molti danni troppi danni ok io non mi fido ancora ad attaccarlo ragazzi questo mi ha beccato ok ora posso attaccarlo ragazzi visto ragazzi cioè gli attacca anche quando gli seta un metro non lo so sarà una tecnica di difesa ultra rompicoglioni oh ce l'abbiamo fatta ragazzi ok 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 toby non ha più niente da vivere toby non credo toby devi morire vorrei concludere questo scontro ragazzi con l'attacco del del rajengan super ultra mega figo ok ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo azione interattiva molto probabile si azione interattiva ok ah no finita la battaglia ragazzi ok una b vabbè ok vediamo cosa c'è in serbo per noi per la fine di tutto da quello che ho visto non mi hai colpito neanche quasi una volta oh dio ok ragazzi mamma mia ragazzi mamma mia i brividi mamma mia oddio la volpe si la volpe ci aiuta mi sa che la volpe ci aiuta adesso stai zitto toby Oh oh! Oh oh! Oh oh! Questo è davvero... Che... Che cosa... Naruto... Tu... Ma se che questo tipo... ... ti senti... ... tu... ... tu non ti senti così... ... non lo so... ... non lo so... ... che è un modo che costruita... ... dunque... ... non lo so... ... non lo so... ... non lo so... ... ma... ... non lo sobrano ne va se ti senti così... ... ti farai la responsabilità... ... non si non lo so... ... non lo so... ... ti senti ai davvero a ti... ... ma... ... niente... ... ho bisogno di tenere... ... ho bisogno di tenere... Sì. 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 Beh, hai chiuso. Sì... Do you like to play Chakra? Oh come play. Io mi sembrava che mi ha volto vedere un po' di te. Si, mi ha fatto un po' di tempo. Ma cosa pensavo che mi ha detto? Se non si riuscite, non si riuscite mai. Non si riuscite mai, non si riuscite mai. Tu e io e io le chakrasi? Ma se... è ancora un chakraso? E' un'altra cosa? Bacca! Adesso non puoi farlo! Ma... Questa è un paio, ma... E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' un uomo! 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 I' un uomo... E' ... E' un uomo E' un uomo! Oh... Viens! Wiesu gif postal niet! Err... I purples schermin' KORO! Chi geldi? Mamma mia ragazzi Mamma mia Oddio ragazzi Mamma mia Mamma mia No, no, no. Mamma mia Mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia 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 Non ci sono parole Super Naruto Super Naruto Oddio 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 ragazzi Oddio Oddio ragazzi No no non è troppo tardi Toby Non è troppo tardi Oddio Teriosfera Puttana Eva Oh mio dio Mamma mia Mamma mia ragazzi Puh Toby Toby Fatelo dire È finita È finita Mamma mia Ciao Grazie a tutti.